Architetto Emilio Battisti Qui con tutto questo rumore? Perfetto Su cosa? Su te e su quello che parli? Io sono un architetto pentito E quello vuol dire? No Un architetto pentito è uno che quando traccia una riga sul foglio oppure sul monitor del computer si interroga per sapere i danni che procura e cerca di tracciarla in modo tale da minimizzare i danni Allora io da quando sono diventato un architetto pentito progetto solo degli edifici ecosostenibili con risparmio energetico una nuova concezione degli edifici che vorrei realizzare ma non c'è ancora nessuno pronto per realizzarli Pare, pare, però non è detto